Saranno sottoposti alla prova del DNA i due sedicenni in carcere per l'omicidio di Christopher Thomas Luciani, il coetaneo ucciso con 25 coltellate lo scorso 23 giugno nel parco Baden Powell di Pescara. I due studenti pescaresi avrebbero accoltellato e preso anche a calci la vittima e lanciato sputi e spento una sigaretta sul volto del ragazzino ormai esanime. Per individuare tracce che confermino quanto raccontato dal testimone e dallo stesso complice dell'assassino, la procura dei minorenni ha disposto l'accertamento genetico fissato per il 19 agosto. Per il 26 è atteso invece l'esito dell'autopsia condotta dal medico legale Cristian Dovidio sul corpo della vittima, che dovrebbe, secondo le differenti caratteristiche fisiche dei due presunti assassini, accertare chi ha inferto i corpi mortali al ragazzo, eventualmente alleggerendo o aggravando le rispettive posizioni. Conclusa anche l'analisi del consulente della procura sui sei telefonini del gruppetto presente quel giorno al parco, i due presunti assassini, il testimone e altri tre ragazzini. Il quadro è quasi completo e intanto ieri mattina a Rosciano, nella sala consigliare del municipio, è stata presentata la nuova associazione di promozione sociale, culturale e ricreativa, oltre che sportiva dilettantistica in memoria di Crocs, fortemente voluta da Olga Cipriano, la nonna di Christopher Thomas Luciani. Al microfono di Antonella Micolitti l'avvocato Giacomo Marganella, legale della famiglia, che spiega che preoccupare l'escalation di episodi di cronaca che vedono protagonisti minorenni. A Pescara negli ultimi giorni, un 19enne è stato accoltellato durante una rissa, all'esterno di uno stabilimento balneare in zona Porta Nuova e in via Parini, in pieno centro, a pochi passi da Piazza della Rinascita, un altro ragazzo è rimasto ferito durante una rapina. Sono certamente eventi che lasciano tutti senza parole e sono purtroppo sintomatici di una deriva sociale che coglie anche purtroppo i ragazzi in giovane età. Ed è appunto per scongiurare in ripetersi di questi tipi di eventi che presentiamo questa associazione, questa associazione che è stata voluta da Olga appunto per essere da faro, anche per le giovani eleve, insomma, i giovani ragazzi che purtroppo non hanno punti di riferimento. Quindi è questa la volontà, speriamo che si possa perseguire al meglio tutti gli scopi. Vi sarà il massimo impegno da parte della famiglia, da parte di noi legali, al fine di realizzare questi scopi.